I vichinghi, il popolo dei temerari esploratori e guerrieri del nord. La storia affascinante dei vichinghi e le loro epiche imprese. I vichinghi, conosciuti come valorosi guerrieri e audaci esploratori provenienti dalla Scandinavia, hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia europea. Questi popoli germanici, con il loro linguaggio norreno, sono emersi in un'epoca in cui l'Europa era già abitata da popolazioni come i franchi e i sassoni, che erano stati cristianizzati e romanizzati. Le prime spedizioni e conquiste dei vichinghi. Nel 793 dc, i vichinghi scrissero la prima pagina della loro storia di conquiste quando attaccarono l'Indisfarne. Questo evento segna la prima razzia vichinga documentata. Nei successivi anni, nel 795, puntarono all'Irlanda e alle isole ebridi, sconvolgendo le comunità locali. Nel 799, il loro obiettivo si spostò a Normoutier, in Francia. A partire dall'840, i vichinghi, su invito di Lotario I, parteciparono alla guerra civile per il controllo dell'impero carolingio. Verso la metà del IX secolo, iniziarono a stabilirsi in Irlanda, Scozia ed Inghilterra. In Irlanda, fondarono importanti città come Dublino, che divennero centri di scambio e basi per attraco. Occuparono anche la parte settentrionale della Scozia, comprese le isole. Nell'865, la Grande Armata Danese, un potente esercito vichingo, intraprese l'invasione dell'Inghilterra, divisa all'epoca in sette regni anglosassoni. L'unico regno in grado di resistere ai vichinghi fu il Wessex, che respinse gli invasori in Ortumbria. I danesi rimasero in Ortumbria, in particolare nella città di York, fino alla metà del X secolo. La religione dei vichinghi La religione dei vichinghi era intrisa di mitologia norrena, che preesisteva al cristianesimo e si basava sul culto di numerose divinità, tra cui Odino, Thor, Loki e Freyr. Per i vichinghi, morire rappresentava il modo più nobile di trovare la morte, garantendo un posto nel paradiso vichingo, noto come Valhalla. In Valhalla, si tengono sontuosi banchetti e rituali per sostenere Odino nelle sanguinose battaglie che avrebbero preceduto la fine del mondo, conosciuta come Ragnarc. Tra il X e l'XI secolo, la maggior parte dei vichinghi si convertì al cristianesimo, anche se conservarono molte delle loro credenze pagane fino al tardo Medioevo. Rune e pietre runiche L'alfabeto vichingo si basava sulla scrittura runica delle popolazioni germaniche, nota come Futarch. I vichinghi utilizzavano questa scrittura per registrare gli avvenimenti storici su pietre speciali chiamate pietre runiche. Queste pietre narravano le imprese eroiche dei loro capi e dei loro uomini, così come le vittoriose campagne condotte in giro per il mondo. Gran parte di ciò che sappiamo oggi sui vichinghi deriva dalle iscrizioni runiche ritrovate in tutta la Scandinavia, nelle isole britanniche e persino fino al Mar Nero. Tra le pietre runiche più famose ci sono quelle di Gelling, che sono ora un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO. I normanni, discendenti dei vichinghi. I normanni emersero come un importante gruppo di discendenti dei vichinghi. Nel 911 si stabilirono nell'attuale Normandia, ottenendo la regione in feudo da Carlo il Semplice. Nel 912 il loro capo, Rollone, si convertì al cristianesimo, segnando una svolta importante nella loro storia. Alcuni normanni della famiglia Altavilla si avventurarono nell'Italia meridionale, sconfiggendo bizantini, longobardi ed arabi. Nel 1059 Roberto il Guiscardo divenne duca di Puglia e Calabria. Nel 1091 suo fratello Ruggero conquistò definitivamente la Sicilia, che era stata occupata dagli arabi fino ad allora. Nel 1130 Ruggero II, figlio di Ruggero I, unificò l'Italia meridionale sotto una sola corona, diventando re di Sicilia. L'eredità dei vichinghi I vichinghi, i più grandi navigatori del Medioevo, colonizzarono la Groenlandia e fecero frequenti viaggi lungo le coste del Nord America e a Terranova. Questa straordinaria impresa iniziò nel 980 grazie a Eric il Rosso e i suoi successori. Fondarono una colonia stabile in Groenlandia con oltre 400 fattorie ed ebbero insediamenti temporanei in varie località costiere dell'America del Nord. Queste esplorazioni avvennero ben prima dell'epoca di Cristoforo Colombo, dimostrando la straordinaria abilità dei vichinghi come navigatori ed esploratori. In conclusione, i vichinghi rappresentano un capitolo affascinante della storia europea, noti per le loro audaci imprese e la loro cultura ricca di miti e leggende. La loro storia continua a influenzare la nostra comprensione del passato e rimane un punto di riferimento nell'evoluzione delle società europee. Grazie. Grazie.